Le elezioni europee hanno modificato sensibilmente il volto dell'Europa e i governi nazionali degli stati membri devono ora fare i conti con la nuova realtà uscita dalle urne. Il voto dello scorso weekend ha però portato in dote anche una nutrita pattuglia di nuovi eurodeputati, tra i quali spiccano elementi piuttosto controversi, che non solo diffondono ma hanno fondato la propria identità politica e i propri programmi elettorali su teorie del complotto estremamente pericolose. Sono Simone Fontana Io sono Anna Toniolo E questo è Veramente, il podcast di facta che una volta a settimana affronta i principali temi di attualità nell'ottica della disinformazione, raccontando il modo in cui false narrazioni e stereotipi impattano sulla vita di persone e comunità. Per mesi ci siamo chiesti come sarebbero usciti dalle elezioni europee i partiti di estrema destra che nei sondaggi erano dati in forte crescita e se sarebbero riusciti a ottenere abbastanza seggi per costruire una nuova maggioranza all'interno del Parlamento europeo. Si avremmo assistito alla cosiddetta Marea Nera, insomma, o si avrebbe retto lo storico argine rappresentato dalle famiglie politiche che da più tempo siedono tra gli scranni di Strasburgo. Ecco, il lungo weekend elettorale del 6-9 giugno ci ha dato la risposta più o meno definitiva in questo senso. I partiti di estrema destra sono andati molto bene in diversi paesi, tra cui Francia e Germania, ma non così bene da essere in grado di formare una maggioranza insieme al principale gruppo parlamentare europeista di centro-destra, vale a dire il Partito Popolare Europeo. Questo però non significa che l'estrema destra sia fuori dal Parlamento e soprattutto non significa che non sia stata in grado di fare eleggere personaggi e formazioni controverse che hanno un legame molto stretto con la disinformazione e con svariate teorie del complotto. È il caso, per esempio, del partito spagnolo Se Acabò la Fiesta, la festa è finita in italiano, che da qui in poi chiameremo con l'acronimo SALF, la formazione guidata dall'influencer 34enne Alvise Perez, all'anagrafe Luis. Fondata poco più di un mese prima delle consultazioni, SALF porterà nelle istituzioni europee una delegazione di tre deputati. Anche se, a dire il vero, non è ancora del tutto chiaro come abbia fatto a ottenere 800.000 voti e a far breccia nel Parlamento europeo un movimento che ha come simbolo uno scogliattolo mascherato da Guy Fawkes, proprio come il protagonista della graphic novel Viper Vendetta, che non ha mai collezionato una sola apparizione televisiva e che quasi metà degli elettori spagnoli non conosceva. Quasi sconosciute sono anche le opinioni di Diego Soler e Nora Junco, che accompagneranno Perez, e non solo perché non è mai stato presentato un programma ufficiale del movimento. Perez, infatti, ha compilato le liste elettorali attingendo dal suo nutrito seguito online. Parliamo di oltre 500.000 iscritti su Telegram e circa 900.000 follower su Instagram. E si è limitato a stilare una streminzita lista di pochi punti. Lotta anticorruzione, riduzione della partitocrazia, eventuale uscita della Spagna dall'Unione Europea in caso di fallimento delle rinegoziazioni delle condizioni di adesione all'UE, tutela della libertà di espressione, protezione dei bambini contro la pedofilia e ridimensionamento dello Stato. Ha anche promesso di mettere in palio il suo stipendio di euro parlamentare in una lotteria mensile tra i suoi follower, e ha garantito che non vivrà a Bruxelles, capitale di quello che definisce un paese fallito dove ci sono solo islamisti in sicurezza e stupri. Si tratta insomma di un pastone populista ultralibertario e ultraliberista, ispirato ai leader sudamericani Najib Bukele in El Salvador e Javier Milei in Argentina. Tanto da venire considerato nello spettro politico spagnolo addirittura alla destra del partito di estrema destra Vox, che è insomma quello che abbiamo imparato a conoscere come l'alleato del partito di Giorgia Meloni. Dopo un apprendistato di militanza politica nel Regno Unito per la campagna dei liberal democratici, nel 2017 Perez era entrato nel partito spagnolo Ciudadanos, fino a essere scelto come capo di gabinetto di un parlamentare regionale di Valencia. Poi nel 2019 sono arrivate le dimissioni, l'avvicinamento alla destra radicale di Vox, in particolare sulle questioni dell'immigrazione e dei diritti di genere e all'organizzazione ultracattolica Hazte Hoir, in materia di aborto. Infine, durante la pandemia è arrivato il grande salto nella notorietà, con la diffusione tramite i suoi canali social di teorie del complotto infondate sui vaccini contro la Covid-19 e l'invito ai suoi seguaci, i cosiddetti scogliattoli, a passargli informazioni riservate su politici e giornalisti corrotti. Una pratica che gli è costata diverse denunce per diffamazione, da cui ora potrà tra l'altro schermarsi grazie all'immunità da europarlamentare. Perez ha infatti ancora una causa giudiziaria in corso, dopo quella chiusa con un risarcimento da 5.000 euro all'ex sindaca di Madrid, Manuela Carmena, accusata durante l'emergenza Covid di possedere illecitamente in casa un respiratore ospedaliero, e quella persa è costata 10.000 euro contro la giornalista e fondatrice del sito di fact-checking Neutral Ana Pastor, di cui Perez aveva diffuso foto personali. Quella ancora in corso riguarda invece l'ex ministro dei trasporti José Luis Habalos, di cui Perez aveva messo in dubbio la veridicità di un test Covid. L'uso spregiudicato di notizie false e teorie del complotto è la caratteristica distintiva di Perez. Nei suoi comizi elettorali, che assomigliano più al raduno di un tiktoker con i suoi fan che ha un appuntamento politico, Perez ha messo in guardia dal rischio che le schede con il simbolo di se accabò la fiesta sparissero dai seggi, e per evitare questo sabotaggio elettorale, come lui stesso l'ha definito, ha invitato a non votare per corrispondenza, ma a recarsi di persona alle urne. Con una retorica che ammicca la teoria del complotto di QAnon, Perez parla spesso di Deep State, per alludere alle elite corrotte nella burocrazia dello Stato che impedirebbero la modernizzazione della Spagna. Anche i riferimenti insistenti alla pedofilia assomigliano molto a un dog whistle al mondo del complottismo trampiano. Perez ha poi accusato i servizi segreti spagnoli di aver occultato la verità sugli attentati jihadisti dell'11 marzo 2004, quelli avvenuti alla stazione Atocia di Madrid, che secondo lui sarebbero stati pianificati dall'intelligence francese e condotti sul campo da spie del Marocco. Sulla scia di Vox diffonde infine teorie del complotto sull'agenda 2030, la roadmap dell'ONU per una crescita sostenibile, e sull'immigrazione, distorcendo episodi di cronaca accaduti all'estero. Nonostante sia un movimento personalistico, non è un fenomeno da sottovalutare, soprattutto perché, grazie alla visibilità appena ottenuta da europarlamentare, Perez potrà godere anche dei benefici degli inviti televisivi, andando ben oltre la cerchia piuttosto ristretta dei social. Ma Perez non è un unicum nel panorama europeo. Le recenti elezioni hanno infatti portato in dote l'accesso all'europarlamento a una nutrita pattuglia di elementi piuttosto controversi, che non solo diffondono, ma hanno fondato la propria identità politica e propri programmi elettorali su teorie del complotto a volte estremamente pericolose. Un altro caso, per esempio, è quello dell'ex pilota automobilistico Philippe Turek, che fa parte di un gruppo euroscettico e negazionista del cambiamento climatico, non rappresentato nel Parlamento della Repubblica cieca, che sostiene di difendere i diritti dei conducenti proprio contro le politiche climatiche dell'Unione europea. In occasione delle elezioni ha guidato l'Alleanza Giuramento e Automobilisti, che si è piazzata al terzo posto in Repubblica cieca, con il 10,3% dei voti e ben due seggi nel nuovo Parlamento europeo. Anche Turek, come Perez, ha visto crescere il suo successo grazie e attraverso i social network, dove ha guadagnato consensi grazie a un'immagine da appassionato di motori e ai suoi appelli per rimodellare l'Europa in una direzione meno green. Lo stesso Turek ha inoltre mostrato segni di una malcelata simpatia per partiti neonazisti, come Alba Dorata in Grecia, ed è finito al centro di un fascicolo aperto dalla polizia cieca che lo accusa di aver fatto saluti romani e aver esibito simbologia nazista. Turek, da parte sua, ha respinto ogni accusa, definendo le foto che lo ritraggono in atteggiamenti estremisti come un malinteso generato da un umorismo di cattivo gusto e sopra le righe. Ecco, la vecchia scusa della goliardia, insomma. Ciò che non ha smentito è invece la sua retorica negazionista dei cambiamenti climatici, che è diventata il suo cavallo di battaglia e che lo ha spinto a promettere, come gesto simbolico, di recarsi a Strasburgo per la prima sessione plenaria del Parlamento europeo nella sua auto con motore a combustione e una, e cito le sue parole, enorme emissione di carbonio. Turek ha anche affermato che quella che riguarda la crisi climatica sarebbe corruzione della scienza. Peccato che le fonti su cui si basano le sue affermazioni e le sue teorie siano principalmente associazioni senza alcuna preparazione nell'ambito della climatologia e anzi pesantemente colluse con l'industria fossile. Questa non è la prima volta che Turek denuncia una presunta cospirazione della scienza, però, dal momento che compare tra gli editori di un libro autopubblicato nel 2015 intitolato I parassiti in noi, che accusa la scienza medica di aver frainteso radicalmente l'origine delle malattie e presenta una serie di concetti fantastici per rivelarne le vere cause. Secondo il libro, quasi tutte le malattie sarebbero causate da una massiccia contaminazione da parassiti e metalli pesanti, non riconosciuta dalla scienza. Lo stesso libro, inoltre, presenta una serie di procedure miracolose per curarsi da queste malattie che hanno origine all'interno di noi stessi, che includono dispositivi di biorisonanza e il consumo di candeggina diluita. Ecco, rimedi pericolosi, estremamente pericolosi. Nel 2016 Turek aveva fondato anche una società chiamata Zapper Club, di cui è stato socio unico fino all'agosto 2023 e uno dei due dirigenti fino a febbraio 2022. Società che si concentrava sempre sulla cura delle malattie, ma questa volta grazie a strumenti chiamati Zapper o generatori di plasma, cioè dei dispositivi pseudoscientifici inventati dalla guaritrice alternativa canadese Hulda Clark, che affermava di essere in grado di curare praticamente qualsiasi malattia con il loro aiuto. Lo stesso Zapper Club vendeva anche prodotti tossici, consigliati per curare le malattie provocate dai parassiti, come appunto la candeggina, ma anche unguenti che decompongono tessuti. Agli Zapper venivano attribuiti i poteri miracolosi, come curare il cancro, l'AIDS, la psoriasi, l'autismo, il morbo di Parkinson, il diabete e addirittura l'asma, il tutto senza alcun effetto collaterale. Sarebbe bastato sedersi e sintonizzare lo Zapper sulla giusta frequenza. Durante la pandemia da Covid-19, la società di Turek si è impegnata a offrire dei dubbi antivirus venduti a persone ignare e che ingenuamente si fidavano dei suoi prodotti. E l'ispettorato statale agricolo e alimentare della Repubblica cieca aveva messo in guardia cittadini e cittadine contro questa azienda. Inutile specificare che si tratta di una promessa fraudolenta, quella fatta dalla società e da Turek, ma soprattutto vigliacca e crudele. I parallelismi tra il passato da guaritore di Turek e il presente tutto incentrato sul negazionismo climatico sono molteplici. In entrambi i casi, la narrazione è costruita utilizzando un linguaggio pseudoscientifico. Se, da un lato, per curare malattie pericolose sarebbe stato sufficiente utilizzare strumenti come lo Zapper o addirittura ingerire candeggina, dall'altro non è necessario, secondo lui, attuare una transizione verso stili di vita più sostenibili. Il vero nemico è la scienza, che ci inganna per un tornaconto personale, ed è contro questo allarmismo che vale la pena combattere. E parlando di cospirazionisti e istigatori all'odio recentemente eletti all'Europarlamento, non possiamo lasciare fuori figure come il polacco Gregorz Braun e la romena Diana Jovanovici Shoshoaka. Braun è un controverso politico candidato per la Confederazione, un partito di estrema destra con forte posizione anti-ucraina, che ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre, arrivando terzo con il 12,1% dei voti che gli hanno assicurato un seggio all'Europarlamento. Lo scorso dicembre, Braun aveva spento le candele di una menorà. Il candelabro a sette bracci simbolo della religione ebraica, accesa per la festa di Annucca al Parlamento polacco. Il politico aveva interrotto un evento con i membri della comunità ebraica, prendendo un estintore e attraversando l'atrio del Parlamento fino a dove si trovavano le candele della menorà, creando una nuvola di polvere bianca antincendio e costringendo le guardie di sicurezza a evacuare i presenti. Aveva poi preso parola in aula definendo l'Annucca come una celebrazione satanica e giustificando il suo gesto come un tentativo di ripristinare la normalità. Alla domanda se si vergognasse della sua azione, aveva risposto e, cito le sue parole, coloro che prendono parte ad atti di culto satanico dovrebbero vergognarsi. Il Parlamento polacco aveva votato per rimuovere l'immunità penale di Braun dopo che la sua azione aveva suscitato indignazione a livello internazionale ed era stato accusato di svariati reati, tra cui quello di istigazione all'odio per motivi religiosi. Oggi, ricordiamolo, è un eurodeputato eletto. Diana Jovanovici Shoshoaka, invece, è avvocata e leader del partito filorusso di estrema destra SOS Romania, fondato appena tre anni fa e che invierà due eurodeputati al nuovo Parlamento europeo, tra cui proprio Shoshoaka. Attualmente senatrice, Shoshoaka è nota per il suo stile aggressivo e per la diffusione di disinformazione e lei stessa si è recentemente descritta come «la voce che, insieme ad altri voci nazionaliste, convincerà tutta l'Europa a combattere per salvare i nostri paesi dai globalisti». La leader di SOS Romania non ha mai nascosto le sue visite regolari all'ambasciata russa a Bucharest e, in passato, si era fatta notare per aver indossato una museruola in Parlamento per scimmiottare l'uso della mascherina anti-Covid, promuovendo posizioni no-vax e negazioniste. La stessa Shoshoaka aveva diffuso la teoria priva di alcun fondamento scientifico, secondo cui il vaccino anti-Covid provocherebbe sterilità per tre generazioni e aveva definito le persone vaccinate «agnelli da macello». La neo-eurodeputata è anche nota in Italia per una vicenda che ha coinvolto la giornalista Lucia Goracci e la sua troupe. «Spalleggiato dai poliziotti, il marito mi prende a pugni». «Siamo giornalisti, grido». La polizia lo ferma ma poi lascia la presa. «Voi non ci state proteggendo, grido agli agenti. Siamo giornalisti. Dovevate liberarci e ci state trattando come criminali». Nel dicembre 2021 Goracci si era recata in Romania per intervistare Shoshoaka, che in quel periodo si era tagliata una posizione preeminente nel fronte no-vax romeno, per porle alcune domande e comprendere le motivazioni alla base di alcune sue prese di posizione. Ma la situazione era degenerata dopo che la giornalista Rai aveva posto alcune domande sulla gestione della pandemia. Shoshoaka aveva dapprima negato l'esistenza dei morti da Covid-19 e successivamente dichiarato che coloro che hanno operato in favore della campagna vaccinale sarebbero stati tutti giudicati, invocando una sorta di riedizione del processo di Norimberga. A quel punto la senatrice aveva rinchiuso Goracci nel suo ufficio e chiamato la polizia. Secondo il racconto della giornalista italiana ci sarebbe stata anche un'aggressione da parte del marito di Shoshoaka, che avrebbe chiesto alla troupe di cancellare le immagini filmate nel totale immobilismo degli agenti rumeni. Un sequestro di persona che era durato ben otto ore e che era stato interrotto solo dal provvidenziale intervento dell'ambasciata italiana. Per non farsi mancare niente nei discorsi paranoici di Shoshoaka si inseriscono anche teorie del complotto che riguardano la geo-ingegneria, come quello secondo cui il programma di cui abbiamo spesso parlato su Facta e Veramente, provocherebbe terremoti ed eventi climatici estremi, discorsi anti-europeisti e anti-immigrazione. Insomma, un curriculum da perfetta complottista. È impossibile non segnalare, in conclusione, che la presenza di cospirazionisti e propalatori d'odio all'interno del Parlamento europeo rappresenta una minaccia significativa per la democrazia e la stabilità delle istituzioni comunitarie. Questi individui, con le loro teorie infondate e la loro retorica incendiaria e divisiva, non solo distorcono la realtà dei fatti, ma alimentano anche l'odio e la sfiducia tra cittadini e cittadine. In un'epoca in cui la disinformazione può diffondersi rapidamente attraverso i social media, la responsabilità dei legislatori di promuovere fatti verificati e di lavorare per il bene comune diventa, se possibile, ancora più cruciale. Arginare figure di questo tipo non è semplice, ma è importante restare lucidi ed essere in grado di riconoscere notizie false e teorie della cospirazione che possono influenzare politiche che poi si riflettono sulla vita di tutti e tutte noi. Il Parlamento europeo, come tutte le altre istituzioni comunitarie, dovrebbero restare bastioni di razionalità e integrità, impegnandosi a contrastare la disinformazione e a proteggere i valori fondamentali dell'Unione. Ma quando narrative di questo tipo penetrano all'interno delle istituzioni, allora l'impegno e lo sforzo collettivi devono essere ancora più forti, per contrastare le sfide poste dai movimenti estremisti. FACTA è un progetto di debunking attivo dal 2020 e si occupa di verificare le notizie. Sceglia chi non credere è il nostro slogan e sintetizza il nostro obiettivo, segnalare ai lettori quali notizie sono vere e quali no. Seguiteci sul nostro sito www.facta.news e sui nostri canali social, X, Facebook, Instagram e TikTok. Ci trovate anche su YouTube e abbiamo un numero WhatsApp interamente dedicato alla corretta informazione. Per contattarci basta scrivere ciao al 342 1829 843. Per rimanere aggiornati sugli articoli che pubblichiamo e sulle principali tendenze della disinformazione, potete seguire il nostro canale Telegram e il nostro canale Whatsapp. Il podcast di FACTA è scritto da Simone Fontana e Anna Toniolo, è prodotto da Jessica Mariana Masucci. Io sono Anna Toniolo e questo era veramente il podcast di FACTA.